Sono immagini, eccole, che riprendono il sito del Mosconi sceso dall'auto che fa Carolina fuori dall'ingresso di Palazzo Grazioni e che vedete saluta il gruppo di giorni. Anche altri ministri, la Meloni poco fa a Palazzo Chigi, anche la Carfagna che alle grida andate a casa, andate a casa ha risposto in qualche modo alla folla, un po' conere di sfida, ha detto ci stiamo andando a casa, io sto andando a casa. Insomma, giornata davvero...